ora giornata eccezionale perché abbiamo i miei i miei ragazzi elisa e edoardo edoardo adesso dobbiamo entrare dentro l'amaca le scarpe le devo togliere dopo per tirarlo su e poi tu mi dà una mano io sono pronto devo fare io lo prendo fantastico dimmi come io metto davanti vieni vieni ottimo ottimo adesso posizionano portano giù ti devi piegare piegati vai giù questa è una sedia perfetto siediti meravigliosa è fantastico è sotto messo per bene è sotto è sotto già sotto puoi sedere c'è 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 io lo tengo vai scendi giù con la testa bello bello ficata della della fiorentina sei super fiorentina meravigliosa fantastico allora come ti senti edo benissimo che bel il sorriso che c'hai meraviglioso sarà come ti senti bene però un po' torta un torto mettiamoci un po più dritto brava la rinascita di sara meravigliosa sembro dentro una numaka sei dentro fantastica grazie a tutti